L'Olimpia agnonese batte Lavastese per 2-0, un match davvero intenso quello disputato al Civitelle con i padroni di casa che sbloccano subito il risultato e anche se compiono errori clamorosi non sono mai davvero in pericolo se non in rare occasioni. Ma andiamo alla cronaca, il primo giro di lancette e arriva il primo sussulto con Santoro che a tu per tu con il numero 1 abruzzese non riesce a spuntarla. Al quinto Lavastese ha una buona occasione con Fiore su calcio di punizione ma la palla finisce al lato di poco. Siamo al settimo e il risultato cambia grazie a un calcio di punizione battuto da guerra che Corbo tocca per infilare dritto in rete ed è 1-0 per i Granata. Al diciottesimo è ancora Fiore a farsi pericoloso ed è a un passo dal pareggio ma Faiella è bravo a intercettare la sfera. Al ventottesimo ci prova Madì ad allungare le distanze ma non inquadra lo specchio della porta. Al trentatreesimo è Ceria che sgancia un bolide della distanza ma Camerlengo si fa trovare pronto. Al quarantasettesimo torna all'attacco l'insidioso Fiore che illude ma la palla è fuori. Sul vantaggio dei padroni di casa dunque si guadagnano gli spogliatoi. Con le immagini di Danilo Scarinci siamo nella ripresa. Il tono cala e per i primi dieci minuti ci annoiamo fino al decimo appunto quando Bittaie si gira in un tiro velenoso che Faiella è bravo a deviare in angolo. Due minuti dopo ancora Abruzzesi protagonisti con Fiore che tenta un colpo ma nemmeno troppo convinto tant'è che Faiella intercetta con facilità. Scocca il quarto d'ora e Frabotta viene atterrato in area da Maronilli. Per il direttore di gara Zucchetti della sezione di Foligno non ci sono dubbi, è rigore. Al dischetto va Corso che clamorosamente sbaglia. Siamo al diciassettesimo e Cerase cerca il riscatto sfiorando quasi il palo e il raddoppio. Così come ci prova guerra al ventunesimo ma Camerlengo è pronto a deviare in corner. Al venticinquesimo servito da Cerase avanza tutto solo Santoro e a tu per tu con il numero uno ospite riesce a beffarlo insaccando il gol del 2 a 0 senza alcuna difficoltà. A questo punto l'Agnone amministrerà il doppio vantaggio fino alla fine del match in maniera serena senza grossi scossoni. Mentre l'Avastese pur accelerando il ritmo non riuscirà a trovare occasioni per accorciare le distanze. La partita si chiude con questo tiro di Litterio che Camerlengo però intercetta. Bella questa prova dei padroni di casa che sulla scia di risultati positivi sta cercando il proprio riscatto e soprattutto di allontanarsi dalla zona play-out. L'Avastese che occupa un signor posto in classifica se ne torna a casa con il rammarico di una prestazione da cancellare.